Il servizio è sempre lo stesso, è quello là che purtroppo sono otto mesi che ci sono questi 33 lavoratori, voglio dire che il 20 di questo mese finisce la cassa integrazione e saranno licenziati. Stiamo cercando anche tramite l'istituzione di fare un tavolo dove si riesca a trovare una collocazione per questi lavoratori.